Vieni qui, va, tu che mi sembri disponibile per due metri direttore. Ecco, e quindi per fare la moviola umana, Anonica prende Balotelli e gli tira la maglia così. Ora, in area di rigore tante volte accade questo e devo dire onestamente che cadi senza soffesa, a Chiellini abbiamo visto fare ben di peggio, però tecnicamente tira la maglia e Balotelli cade. E' andato avanti due metri direttore, ce l'hanno fatto due testicoli così perché aveva appoggiato la mano che era rigore, calcisticamente Aronica è stupido.